L'anno scorso nemmeno la crisi energetica fermò l'accensione delle bellissime luminarie di Larino. Ma quest'anno la magia di luci che anime il centro storico della cittadina basso molisana non ci sarà. Tutta colpa della guerra a suon di carte bollate tra l'amministrazione e l'associazione che organizza l'evento, Larino nel cuore, presieduta da Salvatore Faiella, che è anche uno degli esponenti dell'opposizione nel Consiglio Comunale Larinese. Ed ecco perché non è escluso che a fare da sfondo e dissidi emersi nelle ultime ore ci siano anche le lotte intestine nel municipio guidato dal riconfermato sindaco Pino Puchetti. Faiella ha quindi organizzato un'assemblea pubblica in cui ha spiegato le tre richieste che il comune ha fatto all'associazione. Ridurre il percorso, di ridurre le date, addirittura di dimezzare le date. E la terza cosa è quella che le luminarie sono dell'associazione Larino nel cuore e loro vogliono che la manifestazione si istituzionalizzi, quindi che diventa del comune di Larino. Puchetti sulle pagine di Primo Piano Molise si è affrettato a chiarire la posizione dell'amministrazione, sottolineando la necessità di una regolamentazione per evitare le criticità di tipo amministrativo, burocratico, contabile, giuridico e organizzativo emerse nella passata edizione. Argomentazioni che non hanno trovato d'accordo l'associazione. Noi invece di dire aumentiamo le date per far venire più persone, le riduciamo in modo che le persone non le possiamo far venire, perché è percorso ridotto, meno persone che possono entrare nel percorso, meno persone che possono venire a visitare Larino e tutto il Molise. Di sicuro tra i due litiganti chi verrà danneggiato saranno le attività commerciali e quelle turistiche, che vedranno diminuiti gli incassi che favorisce la presenza dei visitatori che arrivano in provincia di Campobasso per la magia di luci.